Quaresima Tube Il consiglio di oggi per camminare verso la gloria La parola di oggi è amuleti. Basta con la falsa religiosità. Amuleti, risentimenti verso Dio e infedeltà alla Chiesa. Quale occasione migliore di questo periodo per avvicinarti a Dio? È ora di abbandonare gli amuleti, le brutte abitudini, i cartomanti e le critiche insensate alla Chiesa per essere un vero cristiano. Trova dei momenti per pregare e sentire nel tuo cuore la presenza vera di Gesù, l'unico vero Re che ci ama e non ci inganna. Grazie per la visione!